buongiorno allora riproviamo a fare un video tutorial volevo dirvi dell'importanza di spazzolare il gatto questo strumento si chiama cardatore è uno dei tanti che uso io per spazzolare luci d'estate il gatto deve essere spazzolato perché fa la muta e quindi perde molto pelo leccandosi lui ingerisce il pelo e questo può causare anche delle ostruzioni nello stomaco vi sarà capitato poi di vedere il gatto che vomita il bolo di pelo poverino fa un gran sforzo poi viene fuori questa specie di lombricone di peli lui fa una gran fatica a fare sto vomito di pelo allora per aiutarlo io do la pasta al malto in un tubetto tipo dentifricio tutti i giorni non troppa perché ha un effetto lassativo la pasta al malto aiuta lo smaltimento dei boli di pelo da una parte o dall'altra ci siamo capiti a lui ci piace la pasta al malto smilla a lui piace molto per lui è un premietto come vedete luce molto buono fino a un certo punto per poi quando arrivo qui ai chapette allora qua lui si incavola perché perché il maschio tende qua proprio a fare dei nodini tipo rasta però il resto invece gli piace è vero luci ti rilassi quando la mamma ti pettina è vero amore sei buone allora dicevo questo strumento è il cardatore poi io faccio così e di questi ne produco tanti tantissimi vedi luci l'hai fatto tu quello un bambino di pelo e più andrete avanti e più lui perderà peli è inutile prendere un gatto in casa se non si vogliono i peli cioè non lo prendete proprio perché voi vivrete coi peli da quando lui arriva povero amore quindi munitevi piuttosto di un aspirapolvere potente ecco sta cominciando un po stufare luci si vede dalle orecchie adesso andiamo qui nel punto più complicato e lui fra un po si ribellerà comunque dicevo munitevi di un buon aspirapolvere ma se non volete i peli non prendete il gatto è molto semplice perché quando lo prendete ha sempre ragione lui capito ecco bravo luci bravo luci adesso andiamo avanti un po così allora questo strumento cardatore lo dovete avere tutti specialmente se avete un gatto british cos'è stufato